La Lombardia riapre almeno in parte. Liberi gli spostamenti all'interno del proprio comune dalle 5 alle 22, riaprono i negozi, mentre bar e ristoranti continuano solo con asporto e consegna a domicilio. La novità più attesa è la riapertura delle scuole. Tornano in classe le seconde, terze, medie, lezioni in presenza al 50% alle superiori. Non tutti però da domani gli istituti avranno alcuni giorni per riorganizzarsi. La metà resterà ancora chiusa e si andrà a regime in una settimana. Stamattina vertice in prefettura con regione, comuni, aziende dei trasporti. Ci aiuta lo sfalzamento degli orari, si entra all'incirca su una quota del 35% alle 8 e del 15% alle 9.30. ATS Milano spiega il prefetto è perfettamente in grado di fare il tracciamento e la situazione a scuola sarà monitorata ogni giorno a preoccupare il nodo dei trasporti. ATM ha previsto 1200 corse aggiuntive, al giorno e 60 navette per gli istituti scolastici più frequentati. Il sindaco Sala ieri ha firmato l'ordinanza che scandisce i nuovi tempi della città. I negozi non alimentari apriranno alle 10.15, uffici pubblici e banche alle 9.30. Tutto per scongiurare l'assalto ai mezzi pubblici.